Ciao a tutti, mi chiamo Beppe Casales, sono un attore di teatro e sono qui per chiedervi un aiuto. Melting Pot sta facendo una campagna di crowdfunding perché ha bisogno di aiuto. Melting Pot è da più di 25 anni che fa sostanzialmente una cosa. Mentre i governi e gli stati tentano di rendere molto difficile alle persone muoversi per il pianeta, Melting Pot lavora nella direzione opposta e cerca di renderglielo un po' più facile, allora io vi chiedo di fare una donazione anche molto piccola, quella che potete, per donare dei soldi a Melting Pot perché possa rifare il sito e ricominciare a fare informazioni, inchieste, tutto quello che serve per andare in direzione opposta e contraria. Grazie a tutti!